Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 46esimo episodio di Pokémon Snakewood Prima che io mi dimentichi, cazzo, vi devo far vedere una fanart che mi ha inviato Martina Martina non mi sono dimenticato e ti ringrazio tantissimo per questa bellissima fanart che rappresenta la mia figura E niente, è davvero fatta bene, potremmo metterla tranquillamente nella facecam della Crazy Lock Che sarebbe decisamente più reattiva e niente, ringrazio, minchia, mi è venuto un acuto assurdo Niente, ringrazio Martina per questa fanart, vi ricordo che se volete inviare altre fanart che possono essere da mie immagini Ah non lo so, fanart che rappresentano i miei team, una scultura rupestre per merda, qualsiasi cosa Potete contattarmi o su Facebook tramite la pagina, tra l'altro è un po' che non posto sulla pagina, dovrei riniziare Oppure su Telegram dove sono decisamente il più attivo in assoluto di questo universo Ma comunque vi starete chiedendo per quali strani allineamenti di pianeti ci troviamo qua Signori, io ho visto delle cose che voi iscritti non potete nemmeno immaginare Se vi ricordate nello scorso episodio abbiamo sconfitto Senex E i Deadly Seven ci avevano invitato nel loro party all'isola della palestra insomma L'isola della palestra non è quella che pensavo io, ossia l'isola con la palestra ma è tutt'altra cosa E per arrivarci signori è un inferno Scendiamo qua e troviamo questa roccia qua Ora, come vedete io ho delle Poké Ball C'è un problema, la Necro Ball sarà una Master Ball, sapete che non lo so Ma comunque io non ho voglia di perdere tempo Questa roccia sembra distruggibile, vuoi usare Rock Smash? Non era una roccia, era Rock Lobster signori Questo coso Chi se lo ricorda questo coso? Questo coso era il Pokémon del campione che ci ha fatto smattare Ma comunque Io gli tiro una Dive Ball così per curiosità Magari lo prendo per sbaglio, chi lo sa Oh, ho fatto pure un... Minchia, c'è a ghigliottina sto coso, aiuto, c'ho già paura Ma se tipo ti faccio Hyper Beam non ti shot, no Dai, no beh, facciamo un Blizzard, ok Sapete la cosa interessante Che quel cazzo di Pokémon Era cazzo fondamentale Ok, rieccoci, stavolta l'errore non lo commetto Stavolta l'errore non lo commetto e gli tiro la Afro Ball d'ignoranza, via Afro Ball Prenditi l'Ebola anche tu Oh, perfetto, ce l'abbiamo Signori, se mi sentite impappinare con una voce strana è perché mi sono appena svegliato We were at the batch Everybody had matching towels Somebody went under a dock And there they... Ma non era una... Ok E mo? Ok, c'è la magia del... Ok, siamo tornati su, perfetto Io queste cose qua le ho già viste, signori Ma secondo voi io ci posso arrivare a questa cosa Allora Dobbiamo prenderci un attimo sto coso Vedete che ha uno strumento No, come si faceva Withdraw E allora Depositiamo un attimino Toxic Rock Dobbiamo prenderci sto coso qua, signori Come vedete, questo suddetto persono Si ritrova come strumento hard disk solo Dobbiamo prenderlo Questa cosa qua ragazzi non ha senso Allora, innanzitutto come fa un granchio ad avere un hard disk solo Poi Andiamo a vedere cos'è Un antico brano Dei... Gliorifies of nefarious purpose Questo coso qua avrà un'utilità tutta sua Ed è una cosa scandalosa Tutto questo per andare a un party, vi ricordo Ora Ah, tra l'altro, signori Dov'è? Ah, aspettate Fatemi fare una cosa Se non sbaglio qua L'avevo fatto una volta Si può ottenere Broken Heart, vero? Sì, perfetto Broken Heart Che non ho mai capito a cosa servono Ma sono tipo le gemme di Madfather Questa nave qua ragazzi Sarà un extra che penso di fare Non me lo sono spoilerato So solo che è un extra Ok, siamo arrivati in questa città qua Che non vedevamo dal 940 probabilmente Avanti Cristo però Qua una volta c'era un Porygon Ok, non è ancora un'utilità Perfetto Mi fa piacere Signori Questa roccia La soluzione era questa roccia Piazzato l'hard disk solo sulla roccia La musica inizia a suonare Sembra familiare Che cos'è? È la canzone delle evoluzioni E otteniamo Così è Così ma Legit Otteniamo i gym tickets E adesso vedrete a cosa serviranno questi gym tickets Cioè oddio Perlomeno quest'ultima cosa che andremo a fare Avrà anche il suo perché Ci serve Aerodactyl per volare Ecco La cosa scomoda di aver depositato Aerodactyl È questa Che per volare Devo proprio chiamare Bob Marley Che mi deve cantare dietro Altrimenti No poi non era Bob Marley Cazzo io sono fissato Ma non era Bob Marley Era un altro Tipo Kelly Si chiamava quello che cantava I believe I can fly Ve la ricordate questa qua signori miei? Io sì Ciao sono Gabriella Ehi quelli sono i biglietti della palestra Perché nei due? Eh perché Non lo so Perché la roccia ha deciso così Signori si salpa Crunch Sgranocchio Maledizione una roccia Vediamo chi è più forte Questa è pazza Finchia Disperonaggio proprio Manco fossimo Nelle battaglie navale di Azio Oh G Myland Con la musichetta del parcolotta Mi viene il dubbio Sulla mappa Dove siamo? Perché a sto punto A sto punto Io Non ho una mappa No No Minchia io ho già paura di te Signori anche questa cosa qua Deve essere una sclerata abbastanza Vieni qua Stai collezionando sabbia Sei un drogato Perfetto No Ok Aspettate Prima voglio esplorare un po' l'isola Comunque anche qua Non dovrebbe essere facile La nostra vita Ciao Ciao Perché non te mai Ah sei Asimov Creepy Ce l'hai fatta arrivare fin qui Dove sono tutti? Non era qui Non era questo il luogo Dove ci sarebbe dovuto essere il party Sì No come me lo son perso Ma lol Vabbè Non ci saremmo persi chissà cosa Sapendo chi cazzo L'organizzava sto party Ma vabbè Ma era il mio onore Beh amen Tipo Ho ancora questo regalo per te Cos'è forza? Winchia raga con forza Su sto gioco Si possono fare un bordello di robe Non so se siete consapevoli Quanti massi Non ho potuto Ma ci sono Due palestre Aspettate Cartina Secondo me siamo al parcolotta Eeeh Volevi Volevi Guarda che faccia No me l'ho aspettato Tre palestre Ok Questo qua che vuole palestre è burk Quattro Ma com'è possibile sta cosa Ok Questa è quella di prima Ok Tu No 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 Attenzione raga Guardate che non è quello che pensate Fatemi depositare Aerodactyl E andiamoci a riprendere Toxicroc E poi andiamo a vedere Quello strano albero Ma poco antisgamo Devo dire Ciao vieni qua Vediamo un po' Oddio Non t'ho visto Oh E si vabbè ciao ciao Che livello me lo stai dicendo Tra l'altro Gli apro il culo comunque A livello 85 Questo Raga che cazzo Che cazzo è Calma 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 Ok Allora Come hai dato A Ha dato fuoco A una Nan Nan è suora Ok Questa cosa qua Licenza di Licenza di uccidere No Ok si Ah ok Ah tu sei il capo palestra Aspetta Shapeshifter Vieni Ok devo affrontarlo Così direttamente Senza neanche Dimmi che non sei troppo forte Ok livello 75 Ci può stare Hyperbeam il primo Tac Hyperbeam il secondo Explode sei un ritardato Sei un ritardato di merda Explode Cazzo Allora mandiamo un attimo Magneton Vediamo di fare un 3 attack Violento Figurati Ci avrei scommesso le palle Discar Eh vabbè Magneton sei scarso Nell'anima Oh Gesù Mi sa che mi è servito Solo per Per quella battaglia Magneton Perché ora come ora È una pippa Reggi 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 che se lo colpisci Lo ammazzi Si spera Idiota Eh Volevo Volevo tantissimo Willowisp Icebrief Meno male che è gay Uh Oddio Ok Ce l'abbiamo fatta Ma questa è la capopalestra Non era il capopalestra Mi sembrava troppo facile Effettivamente Full restore Tammaz the boat Sheer cold È puro gelo Stai fermo Lapras Ok Fermi No Teniamo Brilom Teniamo Brilom Assolutamente Rain dance Ciao è stato un piacere No Brilom Sei stupido Oh Cristo Hai rotto le palle Quanti cazzo siete Allora Qualcosa mi dice che sono morto Ma non sono sicuro Surf No Thunderbolt Reggi Quichar Reggi 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 Bravissimo Allora questo qua va scontato come lo schifo di Furrest Esatto Adesso lui immagino che Ma attacco prima io o prima lui? Uh godo prima io a casa È stato un piacere Mailotik E Mailotik Io adesso come lo butto giù? Con lui lo buttiamo giù Slashbow Extrasenso Mi ha argutamente aperto il culo Allora Andiamo a vedere se Ce li ho degli revitalizzanti Sì Su chi cazzo li posso A chi cazzo Magneton Per forza Per forza Magneton Non ho altra choose Ma non ho Non ho pozioni Potrebbe essere un problema Sapete Poison slash Avvelenalo Avvelenalo Maledizione Prendilo Bravo Bravo Magneton Così ti voglio Smirgol Ok calma Non dovrebbe essere Sto gran Sto gran cima Smirgol Vero Dai cazzo Ok Starmi Surf Eh ma ho ucciso Dove mi hai portato Mannaggia a te Ok stop un attimo Ok raga Ci riproviamo Ci riproviamo Perché perché si blocca la rom Ci riproviamo Allora velocemente Dai su Immagino di doverti distruggere Un'altra volta Per tre volte di fila Dopo che tu Dopo che tu arriverai E mi logorerai col tempo Basta Con ste full restore Prima o poi Non le userai più Perfetto Ci siamo capiti Vai Ninthase Il tuo momento Quick attack Ignorante E poi fire pump Perfetto Il primo turno L'abbiamo liquidato Così con molta calma Allora Adesso c'è sto coso qua Ottimo lavoro Brilum Sempre in forma Fire pump Dai che vai giù Maledetto Eh figurati Madonna Questi qua Che continuano a usare le quick Sì Godo Maledetto Godo Schifoso Infame Ma Godo Non sai quanto Godo Zap cannon Bravo Magneton Eh figuriamoci Non sia mai Tri attack Storm surge Dai buttalo giù Bravo Magneton Ok Siamo già a due Perfetto Poi mi dovete spiegare Quanto cazzo ci devo Quante vite ci devo passare In sta isola A furia di affrontare Tutta sta gente Quilt shark Surf Olè A casa Mailotic Ok contro questo qua Ho perso prima E mi sa di sì Per forza Hyper beam No non è vero Non ho perso contro questo qui Ok calma calma Butta Non ce ti prego No Ok 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 Sì Sì Perfetto Smirgle Smirgle Non dovrebbe essere Sto gran problema Allora Curiamoci Ninetales Perfetto Rock slide Ma per fortuna Sto coso qua Non mi fa niente Io raga Ne approfitto Sapete cosa Ne approfitto Per rivitalizzarmi Un po' Tutti i pokemon Perché Altrimenti Siamo nella merda Oh bravo Fai super power E spreca tutta la tua potenza Bravissimo Vedi che hai capito tutto Della tua vita Rock slide Perfetto Rivitalizziamoci Appieno anche Magneton Adesso ti sparo Un quick attack Ignorante In grain sarebbe Radicamento Perfetto Ciao è stato bello Starmi Vai Magneton Nel tuo momento Contro starmi Ho perso Bravo Magneton Quasi Quasi Potevi far di meglio Potevi fare molto di meglio Brutto idiota Explode Hyper beam A casa Ma merda Quanto si ricaricano Sti cosi Vai via E vabbè Mi sta shottando Mezza vita Reggi Ti prego Oh Forse ce l'abbiamo fatto Perfetto Basta 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 E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè Cosa ci devo fare Troppo Troppo forti Bravo Quirshark Ti voglio No Lui no Lui no Lui no Lui no Lui no Lui no E oltraggio Godo come un cane Ok Devo Raga mi sa che devo giocarmela Di revive così cattivo Perché non ho molta scelta Sapete Ok Proviamo a curarci Magneton Non lo so Ok oltraggio Non dovrebbe farmi troppo Si perfetto Non lo so Zap Cannon Forco Ok abbiamo un problema Abbiamo un problema Allora aspettate Le palestre Le affronto nella prossima parte Dopo che mi alleno un po' Perché altrimenti Non ce la facciamo Adesso Esploriamo Un po' La zona Perfetto Allora abbiamo Una due Tre Tre palestre Più una Che non Non possiamo sfidare Apparentemente Ok Proviamo ad andare giù Un attimo Visto che abbiamo Ancora un po' Di tempo Parliamo un po' Alla gente Vediamo di capirci qualcosa Anche se ormai Ci ho perso le speranze Non ci credo Anche quei Ragazzi State scherzando Quante cazzo sono Io dovrei Ribatterle tutte No vero Via Ma questi qua Non sono tutte palestre Dai Noi spegniamo le tv Nelle case a caso Ok No 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 Io non c'entro Neanche per sbaglio Cosa Ma tra l'altro Lì come ci accedo Cioè Non ditemi Devo battere Tutte le palestre E poi posso fare Quella cosa lì Io ce la faccio Domani proprio Eh signori Devo per forza Allenarmi Non ce n'è Se no Non ce la farò mai È un problema Ok Quindi L'episodio di oggi Penso che possa Terminare qua Abbiamo catturato Rock Blaster Abbiamo constatato Quanto faccia schifo La vita Ma Non posso Sareso Ah non posso Sareso Sareso Perfetto Ah forse Per la corrente Oh questa qua È la palestra Allora andiamo A vederle un attimo Questa qua è la palestra Che non sappiamo fare Cioè In realtà Non ne sappiamo fare nessuna Ma vabbè Poi abbiamo Questa Che Se è Senex Mi incazzo Ma spero che sia Un gentleman normale Lo spero davvero Poi abbiamo Quest'altra Che c'ha pure Gli allenatori Cristo Dio Oh Gesù Io Mi stai già venendo Da piangere E poi ci sarà Sto Great Stadium Qua E poi ce n'è un'altra Quattro palestre Nella stessa Minchia di città Ma Oddio Questa qua è pure Tipo Koga Mi sa Signori L'episodio di oggi Termina qua Io vi devo Allenare Non ho altra scelta Comunque Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così invito Come al solito Lasciate un bel mi piace A commentare E a iscrivervi Al canale Passate ai social Che trovate in descrizione Se volete Soprattutto Passarmi delle fan art Come ha fatto Martina E niente Noi ci becchiamo In un prossimo Video Soprattutto Soprattutto Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo